Ciao a tutti ragazzi, oggi io e Ivan andremo a incontrare un nostro carissimo amico, è una web star, recentemente ha fatto un film, Game Therapy, che è andata molto bene nelle sale, ha oltre 800.000 like sulla sua pagina, 700.000 su Instagram, è seguitissimo con milioni di click sul suo canale YouTube e stiamo parlando di Leonardo De Carli, quindi adesso noi lo chiameremo, faremo un appuntamento trappola e vediamo se riusciamo a farci regalare qualcosa da lui, squilla, Davide? Oh bella lei, buongiorno, buongiorno, com'è? Tutto a posto? Tutto bene, tutto bene, sì sì, se la vorrà, eh beh, meno male, senti ma stamattina come stai messo? Io ci avrei una mezzoletta libera e più un caffettino? Ehm, stai tranquillo, stai con atti, in zona? Sì, ci possiamo vedere pure al bar quello soggio nostro. E' quello triste, ok? Sì, va bene. Allora non vedo l'alla, a tra poco l'ora, a posto ragazzi, ha boccato, ci siamo riusciti, adesso andiamo da lui e vediamo come reagirà perché secondo me non se lo aspetta proprio, andiamo. Eccolo Leonardo, stalla che ci aspetta, adesso lo freghiamo per bene. Leo, buongiorno, tutto a posto? Sì sì, com'è? Ok, buongiorno. Tutto bene, molto bene. Bene, bene. Tutto a posto? Che è? T'abbiamo fregato stamattina. Guarda come sto, grazie, in tutina. Cioè, tu sai benissimo che cosa faccio io sul web, vado dai vari personaggi, mi faccio regalare un oggetto che poi metto all'asta per Vicenza per l'oncologia pediatrica dei gemelli. Ok. Quindi oggi sono venuto da te e che mi regali? La felpetta, il cappello, gli occhiali. È un caffello, vuoi che mi regali il caffello. Che mi puoi regolare? Pensaci. E lo indirizziamo alle persone che mi seguono? Io direi, facciamo una cosa figa, facciamo un caffè. Ok. Il caffè, non il caffè, prenderò il caffè con un ragazzo o una ragazza che mi segue. Ok, quindi Leonardo De Carli sta mettendo all'asta un pomeriggio a prendere un caffè con lui, con un suo fan o una sua fan. Sì, dai. Però, visto che sei stato una merda e mi hai beccato così, mi ridi, ti faccio fare una challenge. Una sfida. Che cosa però? Non so. Lanciare? Ti faccio lanciare in un fiume. Ma dove troviamo quel fiume a Milano? C'è il naviglio. No, no. C'è il naviglio qua dietro. Il naviglio no. Dai. No, davvero. Dai, dai. Per beneficenza. Ma davvero? Sì, sì. Vai, andata. Io mi tufferò nel naviglio in mutande il 10 di novembre. In cambio, Leonardo metterà all'asta un caffè con lui. Ma adesso tutto così al secco, vai. Sì, adesso così mi sfoglio e mi tuffo. Questo è marzo. Dai, andiamo a fare il caffè per andare con me o per andare con lui. C'è un contino. C'è un contino. C'è un contino. A parte che tocco. C'è un contino. C'è un contino. Allora, metteremo all'asta. Mi è spostato tutto. Su, cerdistar.com. Un caffè con Leonardo De Carli. Che schifo, guarda che me sei appoggiato. Sono freddissimo, sono morto. Poi se ne matti. Io però direi che tra poco arriverà la polizia e io intanto non passo tutto. So, so contento che andrà bene. Grazie a tutti.